12 mesi in compagnia della Benemerita. È stato ufficialmente presentato il calendario storico dei Carabinieri che in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia celebra alcune delle tappe più significative della storia dell'arma. Un excursus storico-sociale che rimarca l'assoluta fedeltà della Benemerita alle istituzioni, prima monarchiche e pre-repubblicane, come rappresentato nella tavola di copertina dal Carabinieri in Parlamento, cuore della vita democratica del Paese. Ed è da qui che si snode il percorso storico, dalla lotta al brigantaggio, rappresentata dalla figura del brigadiere Chiaffredo Bergia che uccise il bandito Niconanco, si passa alla terza guerra di indipendenza, quando il re decise di intraprendere nuove campagne militari per la riconquista dei territori del nord-est. E ancora i traresi del generale Garibaldi nel 1849, due volte nel 1867, con la promozione del tenente Pizzuti, accomandante generale dell'arma, per giungere alle nostre del principe Umberto di Savoglia con la principessa Margherita a Firenze, evento che segnò la nascita del reparto di Corazzieri e in occasione della breccia di Portapia del 20 settembre del 1870, che spunte il primo documento di Roma liberata, una lettera scritta dal luogotenente Acqua. Tra le pagine del nuovo calendario trovano spazio anche le operazioni di soccorso alla popolazione romana in occasione delle sondazioni del Tevere o del sisma di Messina e ancora la consegna ai carabinieri del tricolore da parte del re Umberto I. Infine l'inizio dell'editoria dell'arma e l'arte, con la prima rivista nata dall'idea di un privato per poi essere edita nel secondo dopoguerra direttamente dalla Benemerita e il quadro del 1884, la carica di Pastrengo, la prima rappresentazione artistica in cui domina la figura del carabiniere.